Con la croce ad osso, Cristo fu sospinto. Verso il luogo detto cranio, oppur Golgatha o Calvario. Or mentre fuori usciva di città, in gireneo ecco si imbatte. Simone era chiamato, era padre d'Alessandro e pur di Rufo, e dai campi ritornava. I soldati lo costrinsero a portare per un po' quella croce di Gesù. Gesù Cristo avanti andava e Simone lo seguiva. E addosso la portava. E diceva, Gesù mio, questa croce io porto, sol perché è croce tua. Ma verrà certo, certo un dì, che la croce porteranno quei che noi a portarla hanno costretto. Gli hai tu già condannati. Sono i ricchi oppressori, tutti quanti malfattori. Sono tutti forti e bravi, ma ci tengono loro schiavi. Danno pure dei denari, ma ci trattano da somali. Con il dorso mezzo rotto io ritorno dal lavoro e mi metto un croce addosso. Si lamentava come un vitello, Cireneo, coverello. Oh, non piangere, Cireneo. Verrà un giorno in cui Mammona pur cadrà. Io vi lascio Pietro Cefa, che con lui lotterà. È la lotta che io ingaggio con il mio sangue dalla croce. Cireneo, non disperare, che se Cefa in Occidente devierà, altri pure in Oriente sorgerà. Così sia, Simon rispose. E la croce sulle spalle, dietro al Cristo che era avanti, si aggiustò e camminò. Così fra 21. Così si è la vita voleva, chiamaite la croce. Così si tolgo da patrono di Gesù. Grazie a tutti